Musica 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 Bella a tutti ragazzi Qua è Buzzo che vi parla e oggi siamo su Siamo tornati su Blons TD Battles Battles La finale da serpente E' la migliore roba Battles Arena Mi guarda l'altra volta Posso entrare soltanto fra un'ora E' vabbè Usiamo 5 di quelle lì No scherzo è gratis entrare se non sbaglio Per S1 Wins 0% come me Battles Arena 5 cosi Mi ha fatto andare Quindi No aspetta Ma questo qua Lo reputiamo come utile No Oh zio Ma come mai E poi E' la bestia I am ready Zio Siamo online Infine Ehm 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 Vabbè 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 Quello lo potenzi dopo Ma cosa devi fare? Piazzarne un botto Poi Cominciare a potenziare ah io sono di qua orco 2 ero abituato ad attaccare di qua poi cominciamo a piazzarne uno anche qua per fare poi abbiamo questo qua che è tipo la super potenza della cosa qua tipo fai tipo risucchia tutto non sto capendo niente però vabbè succhia di più sono i super mega palloncini a bestia che si sfasciano tutto metti tipo un cecchino appena appena qua e proprio spari lento come non so cosa allora ora dobbiamo cominciare a spammare spamma 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 vedete dobbiamo fare tipo queste cose qua perché così lui si trova tipo stra in difficoltà allora cominciamo a metterne un altro perché questi sono tipo stra super importanti perché succhiano tutto no cioè non siamo riusciti a farle niente vai zio 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 vai 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 non investire più in nient'altro soltanto in questo perché intanto è la cosa più potente sulla faccia della terra nooo c'è qualcosa che non sta più funzionando qua ti succhia di nuovo succhia 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 devi succhiare tutto dobbiamo spendere in più cose possibili in questi qua perché risucchiano tutto soprattutto lì non possono arrivare perché c'è il cecchino succhiatore due succhiatore cinquanta succhiatore ottocento e come cavolo fanno tipo ora dobbiamo prendere ma quelli strapodenti spammiamo no mettiamo un altro di quelli aspettiamo di arrivare l'altra settecentocinquanta e adesso c'è anche questo qua è impossibile fisicamente che passino poi qua ci mettiamo un soldato con quelli lì tanto non ce la fanno mai ad arrivare è impossibile dobbiamo circondare tutta l'area di questi cose qua intanto facciamo soldi a manetta non può essere risucchiato quel palloncino no no dobbiamo mettere anche un paio di sti ninja qua che distruggono perché non so perché quel palloncino là è passato inosservato fino a qua quindi significa che un paio di sti ninja qua qua in fondo non fanno male zio se mi lasci mettere tipo qua poi metti un altro di questi cosi che aspira a tutto che sta facendo non ho roba che fa danno di gruppo però vabbè se metti un succhiatore in più risucchia tutto qua intanto c'è c'è super tutto lui c'ha sti cosi qua che non so quanti soldi abbia lui ma io sto ancora aspettando di arrivare a una cifra esorbitante in questo modo in questo modo gli spedisco talmente tanti di quei palloncini che non potrà mai gestirli ma soprattutto devo riuscire ad arrivare tipo a questi palloncini qua perché quelli lì ho già fatto prima una partita sono troppo forti cioè possono battere tipo qualsiasi cosa esistente sulla faccia della terra in tutto e per tutto no come mai what perché hai riuscito a farmi danno come ha fatto aumenta 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 non deve passare nessuno vinto non so come ma ho vinto dai eh zii prima pongo di nuovo una sfida gotta go no ah si eh zio so che c'hai paura di me 3.034 players attivi win 100% zio ah no io sono questo qua non non coli quindi mettiamo no 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 non voglio sto tizio qua che è quella roba ma no ma perché l'ho fatto due volte quel succhiatore di robie era strapotente che cavolo che cavolo oddio ci costa così tanto perché è strapotente questo qua devi metterlo in un'area tattica funziona sempre così adesso aspettiamo tipo fino a 1600 ah ma se noi paghiamo il danno lo studiamo noi e lui perché comunque i palloncini arrivano da entrambi i lati ah però sono scemo io che faccio sti ragionamenti e dire il danno ce lo facciamo entrambi e allora cosa facciamo chiamiamo un botto di palloncini intanto noi siamo scemi lui che cosa ha preso cos'è sto roba non sto più capendo niente ragazzi cioè le mie teorie mi impediscono di capire cosa sta succedendo proviamo a mettere sta roba cos'è svegliati che mi fa punto no mi sta distruggendo malamente lo sapevo lo sapevo lo sapevo prima poi sta roba succedeva dai che cosa fai tu non fa un corno quel coso lì piuttosto metti questo qua che almeno fa qualcosa dai dobbiamo vincere ora concentriamoci sullo sparare palloncini speso tutti i soldi in palloncini bianchi sono tipo quelli strapotenti ma lui c'è qualcosa lì che uccide tutto però noi siamo più intelligenti facciamo così così le frecce di questa arrivano fin su là distrugge tutto uccide tutto adesso spiammiamo spamma 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 adesso ragazzi gli mandiamo di là facciamo la stessa tecnica di prima gli mandiamo di là un botto di questi palloncini che così lui si deve tra virgolette abituare a tutta questa roba qua mi li ha distrutti tutti perchè mi avevo dimenticato che c'era il cannone e quindi te devi scruggire in gran conti raga il cannone lo prendo la prossima partita perchè è tipo la cosa più comoda del mondo dobbiamo aspettare almeno questi che sono tipo quelli dorati e ti danno un botto di roba perchè è inutile comprare questi provo a farne a farne un paio ma sono 306 a botta e non ne vale la pena facciamo così questa è una cosa allora lui mi ha fatto danno io non glielo ho ancora fatto quindi proporrei di mandare un paio di questi più un paio di questi guardate 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 sono tipo strapotenti no 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 ho vinto no raga non capirò mai questo gioco sono troppo potenti ne ho vinte due ma co-cosa si sei un infame cosa dici no se ti devo ancora chiedere molto bravi un po' di abble tipo adesso noi siamo intelligenti ne abbiamo ventidue non possiamo comprare niente quindi noi non compriamo niente anzi compriamo sto coso qua no scherzo la conto no 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 10 medaglia per quel 0 ballon king of the sea 25 dico cosa fanno I balons Non capisco cosa cambia Yellow stadium Noi andiamo proprio così Perché intanto in questo si guadagna 5 a botta Tipo 4 a botta 4 a botta Non ho 5 raga Ah si Vai Io L'altro ha perso Ha perso la connessione Quindi tutti i 10 mi li hanno dati a me Raga concludiamo l'episodio Con sta cosa stra fantastica Ci vediamo alla prossima E ciao